Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale, io sono Giorred e oggi parliamo del Grande Fratello Vip, ventinovesima puntata anticipazioni. Sta per andare in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, puntata molto attesa. Tanti sono i temi caldi di questa puntata, il primo tema sicuramente sarà quello collegato alle frasi shock che hanno detto Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet. Quest'ultima colpevole di essersi scagliata contro Stefania Orlando al grido di la uccido, mentre per quanto riguarda Sonia Lorenzini ha fatto dell'ironia sulle violenze subite da Adua del Vesco, cosa che Adua aveva raccontato nella prima parte del suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip. Il web ora grida la squalifica per entrambi, in caso contrario ci sarà sicuramente un riprovero da parte di Alfonso Signorini. Altro tema importante di questa puntata riguarda Andrea Zelletta e il regalo strano ricevuto da Natalia Paragoni. Un regalo e un biglietto che in molti hanno inteso come una sua voglia di rompere o di lasciare il suo fidanzato. Andrea ha chiesto a gran voce di chiarire le cose con la sua fidanzata e oggi potrebbe esserci questo chiarimento. Altro tema sicuramente si parlerà della nuova coppia che sta nascendo dentro la casa più spiata d'Italia, ovvero i prelemi. Quindi sicuramente si parlerà del bacio tra Pierpaolo e Giulia e forse ci sarà anche una reazione di Elisabetta Gregoracci. Altro tema importante il risultato del televoto, quindi non ci resta che attendere questa puntata per scoprire che cosa accadrà. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news, un grosso abbraccio da Jorette. Grazie.